Valentina, come funziona LinkedIn? Questa è la domanda che mi fanno tutti, amici, parenti, persone che incontro per strada, qualsiasi persona viene a sapere che mi occupo anche di LinkedIn. Perché? Perché non c'è una cultura del networking, quindi in Italia non c'è, non c'è mai stata una cultura di fare rete tra persone per ottenere un risultato che non c'è niente di male. In questo caso noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere LinkedIn come se fosse un elenco di persone che sono racchiusi all'interno di un'azienda ma che hanno anche una loro storia personale. Grazie a questo noi riusciamo a contattarle via messaggio privato o via commento per riuscire a capire quali sono le loro esigenze e qualora il nostro prodotto e servizio venga incontro a queste esigenze, allora possiamo colloquiare, parlare con la persona, fare domande soprattutto, ma se vuoi approfondire guarda gli altri video al mio canale e riuscire a ottenere un risultato. Se ti è piaciuto il video seguimi e ci vediamo al prossimo. Ciao!